Grazie Santori, tu la senti tutte le mattine, quindi ci fa iniziare le giornate con il sorriso, un premio speciale a lei, il premio Roma Capitale a Rossella Brescia. Che bello rivederti Rossella, noi abbiamo condiviso una stessa sala prove per un anno e quindi mi fa piacere che sei qui. Grazie, grazie infinite, grazie per questo premio, è veramente un onore per me, è un grande piacere, una soddisfazione perché alzarsi presto al mattino è un po' faticoso, però quando poi si arriva in radio e si percepisce l'affetto delle persone penso che sia la cosa più bella quella che ti capita. È uno dei mestieri più belli del mondo, tra i più belli del mondo e quindi corona un sogno questo premio, vi ringrazio moltissimo, grazie infinite. L'onorevole Fabrizio Santori premia a Rossella Brescia. Io ringrazio anche l'onorevole Svetlana Celli perché come ufficio dell'Assemblea, la presidenza dell'Assemblea Capitolina del Consiglio Comunale ti doniamo questa straordinaria medaglia dell'amministrazione Capitolina coniata dalla Zecca proprio per Roma, quindi grazie Rossella e complimenti straordinario veramente il tuo lavoro per tutti noi. Grazie. Grazie.